Infila le poste per chiedere il reddito di cittadinanza, una provocazione unita alla protesta, quella messa in scena questa mattina a Napoli, dai lavoratori del compatto NCC, il noleggio con conducente messo in ginocchio dal nuovo regolamento previsto dall'attuale governo. I manifestanti chiedono al presidente della regione Campania di intercedere con il governo per tutelare il lavoro dell'indotto che conta sul nostro territorio 10.000 occupati. Da Palazzo Santa Lucia, dove è stato organizzato un presidio, in corteo i manifestanti si sono spostati all'ufficio postale più vicino, con tanto di modulo per la richiesta del reddito di cittadinanza. Altri dettagli della protesta li ha forniti Gennaro Lametta, coordinatore interprovinciale di Federnoleggi. Non abbiamo assolutamente nulla contro la regione ma la nostra protesta è rivolta al governo che praticamente ha legiferato in modo improprio per una categoria e per una materia che è di competenza regionale. Quindi ha messo in ginocchio un intero settore e in tutta Italia con 80.000 imprese e circa 200.000 addetti oggi rischiamo di chiudere e andare purtroppo a chiedere il reddito di cittadinanza. Ma noi non vogliamo il reddito di cittadinanza, noi vogliamo lavorare e guadagnarci da vivere tranquillamente, onestamente, secondo i canoni stabiliti dalla legge.